Ciao a tutti, sono Gabri Costa. In questo video vi farò vedere il passaggio segreto del primo livello di Metaslag XX. Allora ricordatevi che questo è il passaggio segreto del primo livello di Metaslag XX e qua avete visto si ripresentano i maniaci con le mannaie, quelli che avevamo affrontato in Metaslag XXVI. Quanto sarà lungo questo passaggio segreto? Ricordatevi che in questo gioco si può guadagnare un trofeo scovando i passaggi segreti. Abbiamo già finito, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Questo video lo dedico a voi e a mio fratello Alex Costa.